Buonasera, buonasera e benvenute e benvenuti a tutte le persone che sono confluite qui, anche le persone che avranno poi occasione di seguire questo incontro asincrono perché viene registrato e quindi verrà poi postato all'interno dei diversi canali che riproducono e moltiplicano le fruizioni delle iniziative del Festival Smart Life. Il Festival Smart Life è arrivato alla ottava edizione con questa versione 2023 dedicata al tema generazioni. Io non sono evidentemente né il professor Chiesainini che saluto e che è lì alla sinistra né il professor Pararari che è ugualmente saluto e che è qui vicino a me. Non sono nemmeno l'amico Vittorio Iervese che ha avuto un impedimento nell'ultima ora, mi chiamo Giuliano Albarani, sono il presidente della Fondazione Collegio San Carlo che è uno dei soggetti che promuovono questa manifestazione. Quindi io prendo il microfono solo per fare classicamente gli onori di casa per dire che questa iniziativa è un'iniziativa frutto come tutte le iniziative di Modena Smart Life che adesso si chiama Smart Life Festival della contaminazione e della correlazione di diversi soggetti. In questo caso un percorso di formazione sostenuto dalla regione Emilia-Romagna che si chiama Dialog fatto con l'Università di Modena Reggio Emilia e la benemerita casa editrice Il Mulino che tra l'altro è la casa editrice per cui il professor Cristianini ha pubblicato il suo ultimo importante libro. In quanto presidente di Fondazione San Carlo è onorato di essere il padrone di casa, vi segnalo anche che in questo tardo pomeriggio modenese e nella serata qui nella nostra fondazione ci saranno tutta una serie di iniziative in qualche modo consonanti di cui questa è un viatico ideale perché ci sarà poi alle 21 un dialogo sui temi musicali con il famoso critico musicale storico della musica Reynolds e poi alle 22 e alle 23 in due sessioni diverse ci sarà l'inaugurazione del nostro ambizioso progetto di elettrobiblioteca che ha a che fare con il rapporto fra algoritmi e musica. Ma adesso ci concentriamo su questo evento e come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano con il professor Cristianini introdotto dal professor Panarari a cui cedo immediatamente la parola. Senza fare il salto di qua perché naturalmente esordirei con un infortunio facendo quindi il giro. Mi sembra una sana misura in questo caso suggerita dall'intelligenza umana. Moltissime grazie al presidente della Fondazione Collegio San Carlo che ospita questo evento è sempre un piacere e un onore stare in questi luoghi magnifici così densi e colmi della storia culturale di Modena ma in realtà non solo, di una storia culturale davvero europea e continentale. Ed è un grandissimo piacere essere qui con il professor Nello Cristianini con il quale discuteremo anche di questo libro, La scorciatoia, pubblicato dal Mulino che io vi consiglio caldamente non soltanto perché ne parliamo ma perché è davvero un libro importante come diceva il presidente e contiene una serie di filoni che in qualche modo arrivano ad una sintesi rispetto a questo tema epocale gigantesco di cui tutti parliamo spesso senza avere perfettamente i contorni e le conoscenze o le competenze adeguate ma che è destinato a trasformare irreversibilmente la nostra esistenza l'intelligenza artificiale. E allora vorrei iniziare questa conversazione con il professor Cristianini proprio dall'intelligenza, nel senso che come si definisce l'intelligenza? Esistono tanti tipi di intelligenza e come sostiene qualcuno oppure in qualche modo c'è una matrice unitaria e siamo noi gli unici a essere intelligenti del creato oppure no? Grazie. Intanto grazie a tutti e domanda difficile perché è una questione di parole e quindi tutto sta a definire le parole e metteteci d'accordo ma posso garantirvi che ci sono altre, sarete 40, 50, ci saranno 50 idee diverse di intelligenza ed è la prima cosa che devo fare lunedì mattina quando vado in classe e avrò, lunedì mattina inizio l'anno accademico in Inghilterra e io avrò davanti 270 ragazzi del primo anno, 19 anni, che iniziano il primo giorno di intelligenza artificiale, al primo anno e avranno in testa tante idee diverse di cos'è l'intelligenza e il primo lavoro è cercare di chiarire le parole altrimenti si impazzisce, questo è un campo che ha perso decenni a parlare di parole l'intelligenza senza alcun dubbio esiste sul pianeta nostro da prima di noi, prima del linguaggio, prima dell'autocoscienza prima dell'arte, della poesia, della musica, qua c'era già intelligenza su questo pianeta sicuramente e serviva a sopravvivere, gli animali avevano tutta una serie di metodi per imparare, ricordare, organizzarsi, comunicare e andare avanti così, questa si chiama anche intelligenza, intelligenza è una parte essenziale del repertorio degli esseri viventi, quindi non cerchiamo la definizione di intelligenza nell'ambito delle cose solamente umane perché ci sbaglieremmo subito, se non funziona per il lumaca, per il gatto e per il dinosauro, per il pesce, c'è qualcosa che non va, sono animali che hanno un cervello e processano le informazioni, prendono decisioni, hanno un comportamento complesso per farla molto veloce, una definizione molto utile è la seguente, meccanismi, organismi, agenti un agente, cioè che può agire in modo efficace, in condizioni mai viste e intelligente quindi se io vi do una situazione perfettamente nota, già studiata e sempre identica a se stessa basta memorizzare all'inizio la scacchiera con gli scacchi in quella posizione, la mossa ideale è questa, si può memorizzare, ma se vi do una cosa mai vista prima e non avete niente di memorizzato cosa fate? Sapere cosa fare quando non si sa cosa fare, diceva Piaget, psicologo francese quello è l'intelligenza, riuscire a organizzarsi, a comportarsi in modo efficiente e poi lì essere pignoli, cosa vuol dire essere efficienti rispetto a cosa? allora riuscire a perseguire gli scopi, quindi riuscire a perseguire uno scopo in condizioni nuove, in ambienti nuovi e questo lo fanno gli animali, le organizzazioni, le piante, le macchine e anche gli esseri umani e gli esseri umani a volte però danno l'impressione di avere un eccesso di antropocentrismo perché tanto si dice, spesso lo sentiamo ripetere, che in realtà l'unica vera intelligenza di quelle possibili è quella umana il professore faceva riferimento al debutto del suo anno accademico lunedì all'università di Bath dove è appunto professore di intelligenza artificiale e rispetto a questo allora all'ulteriore domanda all'interno di questo dibattito molto complesso che si sta sviluppando è in che modo pensano le macchine quale tipo di pensiero hanno le macchine? il titolo, il sottotitolo del libro è senza pensare in modo umano che è leggermente ambiguo perché una cosa potrebbe essere senza pensare e l'altra è pensando in modo non umano cosa voglia dire pensare? non c'è ancora un termine tecnico e forse è meglio non definirlo adesso perché ci sono varie definizioni non c'è dubbio che queste macchine comprendono il mondo le macchine di oggi, da GPT in poi e poi ne facciamo degli esempi qualcosa devono comprendere del mondo capiscono delle cose, imparano delle cose sanno delle cose e comprendono e sanno in modo non umano perché sia pensiero non lo so però comprendo delle cose in modo umano allora, se YouTube esempio, YouTube lo accendete mettete il vostro login sa chi siete e cominciate a guardarlo questo deve riuscire a capire quale video vi indurrà a cliccare di più domani non vi ha mai visto i video sono nuovi ogni mattina delle notizie del telegiornale deve comportarsi in un modo efficiente in condizioni mai viste deve capire deve conoscere deve essere intelligente cosa farà? guarderà altra gente come voi cercherà di imparare di esplorarvi deve comprendere il mondo ma lo comprende in un modo interamente diverso di noi non ha i concetti comparabili non ha le categorie mentali comparabili ma funziona così come la medusa del mare o la lumaca non è che possiamo comunicare a parte il linguaggio vediamo il mondo in modo interamente diverso perché gli umani fanno sempre questo sbaglio che abbiamo detto di pensare che ogni cosa intelligente deve essere umana perdoniamoci siamo siamo umani quando c'era il tempo di decidere dov'è il centro dell'universo abbiamo detto su questo pianeta siamo noi il centro e quando c'era l'idea di chiedersi ma cos'è la specie animale più l'unica l'essere umano l'unico obiettivo del creato ci vogliono rivoluzioni e rivoluzioni per dire no siamo un pianeta intorno a una stella siamo una specie famiglia e specie l'evoluzione è noi che è nata per far nascere noi noi siamo capitati ecco l'intelligenza non è un'esclusiva nostra e il nostro modo di pensare non è garantito che sia il più potente non c'è nessun teorema nella matematica o principio nella fisica che ci obblighi a pensare che noi siamo il pinnacolo potrebbe arrivare un altro organismo o un altro meccanismo più intelligente senza violare nessun principio non so perché ci siamo convinti che noi siamo il punto di riferimento finale di tutto e questa storia dell'intelligenza artificiale ha appunto già una sua percorrenza diciamo così di lungo periodo nel senso che tra tantissime cose interessanti di questo volume c'è anche la ricostruzione di alcuni dibattiti intorno alla centralità delle macchine alla crescita di potenza delle macchine e c'è un capitolo molto interessante poi noi parleremo in parte del libro in parte anche di altre cose che riguardano nuove frontiere le trasformazioni che sono in corso ma all'interno di questa storia dell'intelligenza artificiale del macchinismo diciamo così ci ho capito molto interessante dedicato ad una figura centrale peraltro una figura femminile non così conosciuta che è Lady Ava Lovelas diciamo per gli accademici Ava in Italia è l'acronimo di un incubo diciamo che si è diffuso però in questo caso invece è il nome di una figura davvero molto interessante anche per ragioni biografiche che ha rappresentato un pezzo di storia femminile essenziale all'interno di questo progresso tecnologico e progresso di pensiero vorrei che ci raccontasse diciamo innanzitutto che era Lady Ava Lovelas e perché aveva torto all'interno di quale dibattito Ada Lovelas è un personaggio dei miei preferiti ho lavorato per tanti anni nell'università precedente e il mio ufficio si trovava nell'edificio che si chiama Ada Lovelas Building giustamente e va ricordata per mille motivi e aveva ragione su tante cose io oggi vi dico una cosa su cui aveva torto ma non pensate che lei si riduca a questo ha fatto un lavoro spettacolare questa donna ed era una celebrità sarebbe una persona che se fosse vive oggi sarebbe costantemente su Dago Sbia era figlia di Lord Byron la madre era anche una nobile aveva cugini e parenti nel jet set di quegli anni era una persona di una celebrità che in più studiava la matematica da subito con grandissima capacità e si era appassionata alle macchine calcolatrici in epoca vittoriana tanto che un linguaggio di programmazione oggi si chiama ADA scusate ha fatto bene a fare così c'è un linguaggio di programmazione che si chiama ADA e la chiamiamo la prima programmatrice perché si era appassionata alle macchine calcolatrici quando erano meccaniche e c'era questo inventore inglese Charles Babbage che aveva progettato e parzialmente costruito un calcolatore meccanico universale che poi non ha mai finito si chiamava la macchina di analytic engine il motore analitico bene lei conosceva tutto di questa macchina e quando poi lui ha fatto una conferenza e la conferenza è stata trascritta in francese e gli inglesi volevano questo documento hanno chiesto a lei giustamente di tradurlo da francese all'inglese perché lei conosceva la lingua e la matematica e il meccanismo e questa è una persona non normale nel senso che sapete che suo padre era Lord Byron ed era il poeta romantico per eccellenza e si comportava in modo riprovevole e ha abbandonato la famiglia all'inizio e quindi questa è cresciuta con una madre molto molto arrabbiata che odiava i poeti romantici dopo di questo episodio e ha obbligato la figlia a studiare la matematica per guarirla da ogni tentazione artistica e quindi togliendole ogni forma di tentazione di pensiero libero e creativo come il padre che era troppo libero e invece quando lei ha tradotto il lavoro di Charles Babbage perfettamente ha anche aggiunto di suo delle note con le sue opinioni che sono di gran lunga più interessanti del lavoro che lei stava traducendo e oggi ricordiamo quel lavoro per le sue opinioni quindi si è comportata secondo me romanticamente in quel senso lì e fra queste opinioni c'è di tutto algoritmi idee ma una cosa dice che è rimasta è che le macchine sapranno solamente fare ciò che siamo in grado di descrivere a loro nulla di meno nulla di più se sono in grado di spiegarlo la macchina può farlo la moltiplicazione la somma quello che è l'algoritmo ebbene questa cosa ci ha confortati per anni perché l'ansia c'era da tanto tempo delle macchine più forti di noi finché nel 2016 a Londra poco distante tra l'altro dalla casa di Lady Loveless questa compagnia che si chiama Deep Mind ha messo a punto un programma per giocare a Go e questo programma che gioca a Go ha imparato a giocare da solo perché nel frattempo ci si è una cosa che si chiama Machine Learning l'apprendimento automatico che non era una cosa che lei poteva immaginare è una cosa incredibile che le macchine possono imparare dall'esperienza tentando e imparando e generalizzando questo abbiamo costruito questa è la notizia grazie all'apprendimento automatico questo programma AlphaGo ha imparato a giocare a Go da solo ha battuto i propri programmatori tutti dimostrando di essere più bravo dei propri creatori ha battuto il campione di Europa e poi ha battuto il campione del mondo e durante quella serie di partite lì in Corea a un certo punto c'è questa famosa mossa 38 la mossa della seconda partita 38esima in cui la macchina fa una mossa inspiegabile mai vista prima al di fuori da ogni logica che tutti giustamente considerano uno sbaglio perché non fa parte delle teorie del Go dopodiché la partita continua in direzione strana e sempre più surreale e si conclude improvvisamente con la vittoria della macchina e analizzando dopo l'incontro si vede che tutto si costruiva l'attacco nuovo inventato da zero su quella mossa 38 che nessuno era in grado di comprendere ecco che lì in questo solo caso povera Ada Loveless questa è una macchina che ha fatto una cosa che non sappiamo spiegarle e che non possiamo neanche interpretare o comprendere e non c'è ragione per cui noi dobbiamo capire tutto quello che la macchina sa è questo che ci insegna la storia di Alfagon ci potrebbero essere delle cose che noi non possiamo comprendere e va bene ma che qualcun altro può comprendere e questo è meno confortevole quando noi guardiamo GPT dentro c'è una quantità di libri tale che nessun essere umano potrà mai leggerli se leggete a velocità record del campione del mondo di lettura e fate i conti del testo che c'è dentro GPT a parte le lingue diverse che ha studiato sono 200 lingue diverse ma non c'è tempo nella vita in diverse molte vite non c'è tempo di leggere quei contenuti questa macchina ha avuto un'esperienza sovrumana ha un potere di calcolo sovrumano ci saranno delle cose che questa macchina capirà potenzialmente che io non posso capire ecco e così arriviamo alla scorciatoia che è anche il titolo del volume del professor Cristianini la capacità delle macchine di pensare non in modo umano passa appunto per una scorciatoia che in qualche modo è stata individuata da un informatico che lavorava per l'IBM un altro protagonista della storia che il professore racconta all'interno del suo volume un informatico cieco americano che si chiamava Frederick Jelinek e che ha avuto l'intuizione fondamentale sulla modalità di pensare in maniera sovrumana per l'appunto e quindi in maniera non umana per l'appunto differente dall'intelligenza umana delle macchine vorrei che ci raccontasse diciamo questo passaggio che è fondamentale che è il cuore del suo ragionamento quello per cui alcuni studiosi di un altro campo disciplinare i sociologi parlano appunto non di intelligenza artificiale ma di comunicazione artificiale e vorrei visto che diciamo sta raccontando una storia così affascinante sta descrivendo degli scenari in maniera scientifica che ci raccontasse se la singolarità una di queste parole che attraversano il dibattito introdotta nella discussione da Kurzweil sia possibile verosimile o impossibile qua sono due domande diverse posso farle a turno perché prima si è detto la scorciatoia e poi la singolarità facciamola prima è vero che si parla di questo signore dell'IBM perché sto libro è organizzato in aneddoti ed episodi e storielle di gente che ha preso decisioni in un certo momento che hanno cambiato la storia della disciplina l'idea è questa che se noi riusciamo a vedere questi episodi capiamo come siamo arrivati qui a me è sembrato subito strano che io conosco l'intera storia perché c'è gente che ho incontrato storie che ho sentito posti che ho visto per me è tutto molto facile e molto personale e poi fare un riassunto matematico e darlo agli studenti per loro non significa niente è giusto ripetere gli episodi salienti un episodio saliente e memorabile e negli anni 80 questo signore qui non l'ho conosciuto conosco molta gente che lo conosceva Jelinek doveva in qualche modo creare modelli di linguaggio inglese per l'IBM per tradurre le macchine traducevano malissimo se provate a tradurre le cose parola per parola non funziona bisogna tradurre in modo molto diverso ed è importante comprendere le interazioni fra le parole di un testo e avevano assunto legioni di linguisti grammatici per fare regole grammaticali per aiutare in questo caso e nulla di tutto questo ha funzionato perché a questo punto noi tentavamo forse anche giustamente di mettere nelle macchine quello che noi pensiamo sia il modo nostro di ragionare quello corretto le regole i principi i ragionamenti simbolici quindi per fare un traduttore automatico ci mettiamo la linguistica per fare un raccomandatore di libri ci mettiamo la teoria del marketing non lo so tutto questo non ha funzionato abbiamo speso dei soldi e dei decenni Jelinek ha detto perché non proviamo a usare trucchetti di bassa lega statistici come quello che avete nel whatsapp che è un modello di linguaggio statistico scrivete le parole e lui predice la prossima parola senza capire niente senza grammatica statisticamente e spesso ci becca rapidissimamente con dei trucchi statistici molto banali sono riusciti a ricostruire frasi inglesi decenti trovare quelle che non erano valide cioè non inglesi e il traduttore si è messo a funzionare e lui ha detto famosamente famosa frase tutte le volte che licenzio un linguista le nostre prestazioni aumentano da quell'anno lì tutti ci siamo messi a licenziare un linguista per così dire la Amazon aveva un sacco di redattori umani che sceglievano qual libri da comandare e come presentarli l'algoritmo di Jeff Bezos che si chiamava Amabot in quegli anni in 97 vendeva libri meglio statisticamente guardando nel database delle vendite chi compra questo chi compra quello chi è simile a chi gente di quel tipo lì compa libri di quel tipo lì statistica e questa è la prima scorciatoia sostituire le regole esplicite con i trucchi statistici che crea un bisogno immediato per i dati perché se non abbiamo i dati la statistica non si impara bisogna analizzare i dati i testi per la linguistica le vendite per Amazon le immagini per quell'altro che fa le immagini e avanti così trovare i dati è costoso è difficile e abbiamo deciso di prendere la seconda scorciatoia andare su internet e riciclare si chiamano dati preesistenti in natura il testo è su internet la gente che litiga che discute tutto lì le vendite dei libri sono nel database del feature vendite della casa editrice o del negozio dei libri e avanti così analizzando tutte le relazioni si fanno le raccomandazioni si prevedono le parole quando si può prevedere una parola mancante o consigliare un libro poi si può anche prevedere il film di youtube che guarderete le notizie che leggerete su facebook è tutto uguale il problema che manca è adesso capire cosa vuole l'utente e chiedere non è facile descrivimi con parole tue cos'è un bel vestito un bel libro un bel film la cosa più facile è stata guardarli guardarli sempre e quando cliccano su qualcosa lo interpretiamo come segnalavano la preferenza per queste cose ecco tre cose statistica dati riciclati dal web osservare l'utente costantemente tre componenti collegate insieme fanno la ricetta ufficiale che usiamo oggi per mandare avanti tutte le macchine intelligenti che ci sono adesso da amazon a youtube poi abbiamo fatto sta roba qui che ci spiega come funziona ci spiega anche perché è così difficile regolamentarla perché nessuno non è facile spiegargli le cose a sta macchina se io voglio adesso dirgli fai il tuo lavoro ma non nuocere gli esseri umani non è che sta macchina dentro abbia il concetto di nuocere è come parlare mi arrivano le cavallette nell'orto e io cerco di spiegare sono intelligenti anche loro usano l'intelligenza vanno a cercare i cavoli e si li mangiano è un tipo di intelligenza di quel tempo come youtube la cavalletta dice voglio mangiare i cavoli non è che pensa molto youtube dice devo farti cliccare imparo mi adeguo ragiono ma poi tu devi cliccare spiegare alla cavalletta il concetto che non è giusto mangiarmi i cavoli che sono otto mesi che li coltivo non ha un significato per lei ecco che comprendendo cosa abbiamo fatto e come siamo arrivati qui le trattiamo diversamente e le leggi saranno diverse ecco e la singolarità è possibile tutt'altro argomento ciò che tu vuoi parlare cancellate questo non cancellate questo è il libro ma separatamente c'è chi pensa ed è una speculazione che un giorno lontano o vicino una macchina potrebbe diventare così intelligente da crearne un'altra un po' meglio questa è una speculazione non è mai successo non c'è nel libro però una domanda legittima se questa ipotesi si realizzasse e non è una realtà la seconda macchina potrebbe creare una ancora migliore giusto? e nella fantascienza si parla molto di questi scenari la macchina che fa la macchina migliore e dato un po' di tempo si crea un'accelerazione fino al punto in cui l'accelerazione raggiunge un punto in cui nessuno può capire più niente perché le macchine fanno altre macchine da sole e quel punto di discontinuità i scrittori di fantascienza le chiamano la singolarità ed è bello ragionarci su come fantasia ma non c'è in questo momento una realtà però tenerlo in mente è utile quindi questa è fantascienza invece così come potremmo dire che in qualche modo è fantascienza anche l'idea della dittatura dell'algoritmo tuttavia ci sono degli elementi molto seri che riguardano l'organizzazione l'impatto delle tecnologie dell'intelligenza artificiale delle tecnologie digitali rispetto appunto ai nostri dibattiti etici alla nostra modalità di organizzare la vita associata alla politica ed è un tema molto sensibile molto delicato perché appunto come il professore descrive come vediamo ormai anche nella nostra vita quotidiana gli avanzamenti dell'intelligenza artificiale delle tecnologie sono veramente colossali ed esponenziali allora volevo chiederle qual è lo stato del dibattito nel senso che c'è un problema che riguarda comunque la democrazia da questo punto di vista e i decisori diciamo negli anni passati a volte sono stati colti impreparati o erano piuttosto disinteressati rispetto ad un settore che avanzava grazie ai privati grazie agli investimenti economici grazie alle applicazioni ma che per l'appunto in maniera sempre più rilevante diventava una questione di interesse pubblico oggi a che punto siamo? qui si guarda una cosa interessantissima che una cosa è la tecnologia che facciamo e una cosa è il posto in cui la mettiamo nella società avendo creato la cosa che vi ho detto per la prima volta mettendo insieme questi scorciatoi e statistiche abbiamo fatto una cosa che non possiamo comprendere a pieno ma l'abbiamo costruita l'abbiamo messa al centro dell'infrastruttura digitale che manda avanti il mondo che sarebbe il web è lì che incontriamo gli algoritmi intelligenti e abbiamo delegato ad essa subito decisioni importantissime questo non è più un fatto di scienza è un fatto di sociologia abbiamo messo questa macchina a controllare delle cose importanti una cosa che controlla è il traffico delle notizie la gente scrive le notizie le mando le faccio vedere la pubblicità i video i contenuti si chiamano che io odio come parola ma i contenuti in quel posto lì la macchina può osservarci bene e può condizionarci perché la cosa interessante è che magari un ingegnere del software non sospetterebbe ma tutti gli altri lo sanno benissimo noi siamo completamente influenzati dalla dieta di notizie che consumiamo e quindi c'è una preoccupazione che se l'algoritmo continua a presentarmi sempre il tipo di cose che a me piacciono mi crea un'immagine del mondo completamente distorta e c'è il rischio che una persona vada a finire in un mondo parallelo di tutta la gente che è d'accordo con lui e viceversa e questo si chiama polarizzazione l'individuo può diventare radicalizzato vedete queste parole qua non sono le parole dell'ingegnere del software cioè nessun ingegnere del software a scuola ha mai aperto un libro sulla radicalizzazione e la polarizzazione ma è così che poi avendo messo la macchina lì a controllare le notizie bisogna pensarci in queste interfacce fra campi diversi si crea il problema perché dobbiamo capirci e non è facile e i problemi non sono lì uno è l'informazione uno è il rischio costante che la tecnologia di quel tempo lì crei addiction dipendenza cioè il fatto che uno non possa smettere di guardare Instagram si sveglia la mattina e prende il telefono e guarda Instagram è un problema psicologico è un altro linguaggio ancora e poi c'è la questione delle decisioni che fa la macchina che devono essere legalmente eque quindi quando la macchina riceve il compito di decidere chi prende il mutuo o chi no a quel punto deve accettare delle leggi la legge prevede che il mutuo si dà in certi modi senza discriminare per sesso o per età o per razza e così anche per l'ammissione a scuola avendo delegato decisioni importantissime alla macchina ora abbiamo da fidarci e il modo per fidarsi è fare delle leggi serie le leggi serie deve fare chi di dovere non io cioè il Parlamento ed ecco che il Parlamento si è messo al lavoro qualche anno fa ed è quasi pronto una buona legge il Parlamento fa le leggi i politici prendono le decisioni bisogna evitare che le prendano gli attori automatici quando sono campi così delicati le volevo chiedere una riflessione di carattere generale a questo punto allora su quali rapporti corretti o su quali rapporti utili ci possano essere tra i decisori e i tecnici uso questa espressione per farmi capire cioè con gli scienziati anche perché noi veniamo siamo immersi in quella che alcuni studiosi chiamano l'età della crisi permanente noi veniamo da un'emergenza l'emergenza covid l'emergenza sanitaria in cui i rapporti il ruolo pubblico degli scienziati è stato fondamentale essenziale ma probabilmente proprio per la mancata abitudine a stare sul palcoscenico stare al centro dei flussi informativi diciamo una parte della scienza si è fatta un po' cogliere uso un'espressione impropria da una certa forma di narcisismo e questo ha generato anche delle forme di resistenza andando a rinfocolare il pensiero antiscientifico come si può impostare in maniera corretta vista la centralità della scienza rispetto all'assunzione delle decisioni oggi vi do un esempio diretto subito non parlando di cose che non si capiscono e quindi non risponderò a questa domanda benissimo questa è da applaudire appunto ritorniamo invece alle cose su cui lei può rispondere per l'appunto e ritorniamo anche al libro un capitolo è dedicato al difetto ovvero al fatto che nell'ambito del moltiplicarsi delle scorciatoie ci possano essere appunto delle scorciatoie che vanno a invadere o ad occupare degli spazi rispetto ai quali gli attori automatici gli agenti automatici possono essere investiti di una crescita di ruolo in temi che non sono di loro competenza come si può agire rispetto innanzitutto le questioni etiche come si può evitare il rischio che per una serie di ragioni appunto la scorciatoia vada laddove non deve andare allora sempre parlando di cose semplici come sono io l'automazione per definizione ha lo scopo di sostituire le persone ecco perché facciamo automazione quindi lì non si può fare troppe questioni se facciamo una macchina che decide stiamo delegando decisioni non è che poi va un essere umano a controllare ogni decisione di nuovo stiamo delegando decisioni il problema è che dobbiamo fidarci fidarsi è una cosa complessa vuol dire essere in qualche modo convinti della benevolenza e della competenza della persona dell'algoritmo per esempio andiamo al ristorante non è che controlliamo con la chimica che la cucina che il cuoco io mi fido del cuoco nel ristorante che non mi avveleni perché mi fido perché sono convinto che sia non malevolo che non abbia un piano diabolico per avvelenarmi non avrò mai la garanzia mi fido del cuoco e mi fido che sia competente perché è competente perché va studiato perché la scuola perché c'è l'ufficio di igiene che lo controlla perché è benevolo perché è razionale essendo razionale non vorrà andare in galera sa che se avvelena un cliente lo becca non va in galera perché abbiamo creato un sistema di fiducia complicatissimo in questo mondo con le ispezioni con le leggi con i controlli con i ristoranti è chiarissimo ma vale per i medici vale per gli avvocati questo non c'è ancora con gli algoritmi io mi fiderei molto di più se ci fosse uno che lo controlla un costo da pagare se sbagli tutto un ecosistema della fiducia che stiamo creando adesso in grande rapidità finché non c'è chiunque si fa l'algoritmo lo mette su YouTube su online questo raccomanda le cose vi immaginate vendere le medicine così ho fatto una molecola te la raccomando per il mal di testa e i dati e le prove e i test e le garanzie e la sorveglianza questo dovrà accadere con gli algoritmi è chiaro l'ecosistema della fiducia è la grande questione della nostra epoca nel senso che presuppone quel rapporto che è un rapporto molto dinamico cioè un rapporto che evolve tra la fiducia e la credibilità che sono due elementi fortemente intrecciati ed è proprio la crisi di questo nesso che rende problematico in un contesto in cui come dicevamo è sempre più necessaria tecnica competenza sapere scientifico per prendere le decisioni fa un po' saltare per l'appunto il sistema a questo proposito di nuovo chiamando in causa lo scienziato farei due domande su due questioni diciamo molto importanti che in parte sono affrontate nel libro in parte sono grandi frontiere della nostra epoca cioè vorrei che lei ci spiegasse da un lato cos'è la grande convergenza che è uno dei concetti di cui si parla tantissimo e dall'altro a proposito di frontiere cos'è la multimodalità modalità di nuovo domande distanti distanti il che vuol dire che confondiamo vi viene il colpo di frusta come quando la macchina gira improvvisamente allora la grande convergenza ormai è banale ma mi piace dirlo agli studenti perché gli studenti faccio le cattiverie voi non avete studenti alcuni ci sono gli chiedo ma perché quel logo lì in cima al al programma Word significa salvare il documento e in genere dicono ma perché perché è il simbolo di un floppy disk che non hanno mai maneggiato c'è il floppy disk il dischetto floppy che si metteva nel compito di una volta che nessuno ha mai visto negli ultimi trent'anni hanno imparato oppure qua dentro il logo per il telefono ha la cornetta ma chi ha visto la cornetta col col disco io ce l'avevo ma non credo che quelli giovani e avanti così qua dentro c'è la busta e il gmail ha la busta con la forma della busta quella col francobollo chi l'ha mai vista una busta sono anni che non si mandano lettere e avanti così un sacco di cose che esistevano che erano pezzi di infrastruttura anche culturale sono lentamente migrate nello schermo del telefonino la posta la banca tra poco il dinero contante anzi la carta di credito che è rappresentata con l'immagine della carta di credito prima o poi scomparirà la carta di credito e rimarrà la sua immagine qui dentro così come l'immagine del telefono e i miei figli non telefonano quasi mai il fatto che si chiama il telefono è ridicolo l'ultima cosa che fanno è telefonare tutto il resto fanno tutto sta convergendo in un mezzo unico e questo mezzo unico è un mediatore pazzesco la parola stessa e quindi quando noi concentriamo tutto quanto lì poi mettere le macchine e controllare quelle cose lì ha conseguenze è questa la domanda si può andare avanti tutta la sera ma vi risparmio mentre a proposito di domande distinte la multimodalità visto che mi provo adesso ve la dico bene poi è colpa sua e poi parliamo del libro che finiamo stiamo per finire la multimodalità è una cosa per me filosoficamente bellissima adesso in 30 secondi GPT legge i testi produce i testi ed è bravissimo ha letto tantissimi testi li ha collegati internamente e produce i testi gli posso fare domande incredibili su cosa significa essere come ti senti la mattina dopo l'esame di maturità quelle cose complesse lui non può saperle magari ma risponde in modo corretto e la domanda diventa ma può capire quello che dice o no perché ha solo il testo non è che ci ha mai vissuto e i filosofi ci passerebbero la vita su questa cosa qua però se io do a GPT la capacità di vedere ascoltare annusare spostarsi usare il GPS avere tante modalità diverse e per ciascuna fare quel lavoro lì dato una serie di immagini per dire la prossima immagine interpretarle i suoni collegando tutto insieme la macchina può anche dire cos'è il significato di queste parole e corrispondono a questi oggetti intrecciando questi segnali modalità diverse stiamo iniziando a creare quello che si chiama il grounding in inglese a creare le fondamenta di una comprensione del mondo sembra una cosa astratta ma quando una macchina Tesla ha 50 sensori di posizione di prossimità di contatto di GPS di tutto ciascuno di questi può andare avanti col suo GPT per così dire e comprendere cosa che capiterà dopo e si collegano sembra astratto io ho visto la mia collega a Bristol che sta facendo questo lavoro qui con i video il video ha immagini sottotitoli e suono e lei chiede al video al suo programma che è uguale a GPT di guardare la prima parte del video che è più di come funziona il mondo sono incontri di basket e poi cercare di produrre i suoni che sarebbero prodotti se ci fosse il suono dopo quel punto lì e la macchina capisce benissimo che quando la palla rimbalza nel momento del contatto c'è un suono e poi non c'è più lo fa subito ha capito che l'immagine e il suono sono correlati e ogni impatto ha un suono quel suono lì è avanti così ecco la multimodalità se le macchine comprenderanno cosa vuol dire essere fisicamente nel mondo sarà grazie alla multimodalità e ancora una volta sarà una fregatura per noi che abbiamo cinque modi di sentire il mondo e la macchina non ha alcun limite può avere il radar può avere gli infrarossi gli ultravioletti sentire le reti wifi chi non può sentirle a quel punto lì può fare quello che vuole io ho la domanda finale però prima della domanda finale volevo chiedere naturalmente se c'erano domande quesiti da parte delle persone presenti brevi però due cose io ho due regole ma facciamo in sezione brevi e se si può iniziare con una donna perché ho visto che in genere in sezione con una donna la dinamica è molto più uguale ma se non c'è la volontaria fa il signore prego sì sì io ho visto un documentario sulla vita del caos vita meravigliosa del caos in cui praticamente dimostrava come da solo si è evoluto l'intelligenza artificiale attraverso un piccolo programma un piccolo algoritmo che poi evolvendosi ha fatto delle cose tutte sue che non si capisce delle formule delle creando dei calcoli che noi non possiamo neanche fare per creare queste figure di giocatori di rugby e queste cose qua questa evoluzione della macchina diciamo le può un po' spiegare come un algoritmo si evolve per conto suo come se fosse un materiale vivente poi vorrei raccontarvi due parole sul libro alla fine ma il fatto che gli algoritmi possono imparare da soli e usino anche decisioni casuali e prendano la loro strada è un fatto da 30 anni non c'è dubbio la differenza di oggi è la scala lo facciamo su scala enorme ma su scala piccolo lo facevo da studente io sta cosa qua si può fare prego molto grazie a un certo punto lei ha detto che non capiamo queste macchine come funzionano chiaramente vediamo il loro comportamento siamo sorpresi del loro comportamento eccetera ma non lo capiamo il loro comportamento è dovuto alla statistica allora aggiungo una cosa il professor il nuovo Parisi spiega i sistemi complessi esattamente in questa maniera cioè sistemi il cui comportamento deriva dall'applicazione su larga scala di una semplice legge probabilistica è l'esempio che fa lui quello del volo degli stormi cioè ci sono centinaia di storni di uccelli che si muovono tutti insieme e non si capisce com'è che si facciano a coordinare e lui lo spiega appunto che c'è una semplice legge probabilistica e in questi modelli linguistici che sono stati citati come c'è CPT eccetera esattamente quello che succede cioè il sistema ha acquisito una capacità di riconoscere la probabilità della prossima parola che sembrerebbe una banalità sembrerebbe una cosa molto semplice però l'utilizzo di questa capacità amplificata su una larghissima scala produce un comportamento complesso una capacità che noi attribuiamo a qualche forma di intelligenza se vogliamo e che facciamo fatica a riconoscere a spiegare proprio perché i sistemi complessi sono difficili da capire noi capiamo una bicicletta che ha i pedali e una catena che sposta il movimento alle ruote le ruote spostano 5-6 pezzi che si collegano tra di loro e lo capiamo ma un sistema che è fatto da 200 miliardi di parametri come il GACPT non riusciamo a capirlo e forse la spiegazione può nascere da questo che non riusciamo a semplicemente l'effetto di questa combinazione su larghissima scala di un sistema che alla base in realtà è molto semplice assolutamente non c'è dubbio io ho appena detto la mia amica Alessia che non racconterò il posto ma si parla di questo è il comportamento che emerge è questo stiamo osservando comportamenti emergenti per dirla breve che non ci spettaviamo e non sappiamo spiegarci e di conseguenza non sappiamo cos'altro può emergere la ragione dell'ansia che ho io non avendo una teoria completa di perché è emerso quello che è emerso non posso dire cosa emergerà domani ecco se il presidente in genere non speculo ho detto che non speculerò sulle cose non concluse sono lavori aperti questi sono lavori di questo momento qui l'agenzia sta ragionando in questo modo in questo momento qui ultima che poi parliamo di cose positive secondo me prendo una piega un po' è vero è quello di cui si parla oggi quando i colleghi chiudono la porta e mandano via tutti si parla di questa cosa io avevo una domanda rispetto a quello che diceva all'inizio sull'intelligenza come meccanismo del fare dell'efficacia e quant'altro ed è una domanda che in realtà forse punta in due direzioni la prima è se la macchina o l'intelligenza artificiale capisce che forse il non fare non creare non esistere è la soluzione ultima che faccio un piccolo collegamento se possibile se queste diciamo intelligenze hanno uno scopo economico quindi se il fare è inteso al risparmiare da un punto di vista economico come quello di non usare il linguista o produrre vendere clic e quant'altro esiste la possibilità non negativa che però il non fare non esistere sia la soluzione che ovviamente va contro l'ideale economico del fare di più e vendere di più ma appunto qui stiamo mescolando due cose nessuno ha detto che la macchina ha lo scopo di fare di vendere di fare un profitto viene usata in questo momento dalla compagnia che ha scelto di fare così ci sono altre macchine che hanno altri scopi interamente diversi e vanno benissimo giusto? purtroppo e qui si parla di sociologia perché non è sviluppare la tecnologia con questa scala di macchine di persone e di soldi e di dati qualcuno deve pagare le bollette in questo momento le bollette in questo campo sono pagate interamente dalla pubblicità sembra incredibile Google e Facebook vivono di pubblicità e quindi quelle compagnie mandano avanti l'intero settore i fondatori di questa disciplina qua alcuni li ho conosciuti avevano i mille sogni in testa negli anni 60 mille cose robot autonomi su Marte chirurgo automatico traduttore simultaneo molti di vieno realizzati una cosa che non si erano mai pensati è che questo lavoro finirebbe per diventare un meccanismo di fare pubblicità ma è solo un tipo di ragionamento sociologico se domani venisse fuori un altro modello di business e potrebbe essere per esempio l'automobile autonoma che non richiede pubblicità è un altro modo per sviluppare il settore credo che siamo in una transizione adesso un grande semiologo un grande intellettuale Umberto Eco a proposito delle tecnologie diceva come è noto che le persone tendono a dividersi tra poca liti e integrati volevo chiederti uno qual è la tua posizione e due alla fine questa è la domanda delle cento pistole perché hai scritto questo libro all'interno del dibattito sull'intelligenza artificiale che sono domande collegate e poi il resto le posso prendere nel banchetto là prendo altre domande più informali io quando sono solo e non mi sente nessuno per anni e anni mi sentivo molto solo e abbandonato è ovvio che uno gli viene l'ansia perché vede la direzione che prende questa cosa uno pensa all'importanza dell'informazione della stampa uno può diventare pessimista ogni tanto adesso quei giorni sono finiti adesso abbiamo il primo ministro d'Inghilterra che incontra il presidente dell'america e parla di questo non è che mi devo sentire particolarmente responsabile per dire a tutti che le cose potrebbero andare male quei tempi sono finiti il mondo ne sta parlando c'è gente competente che sta guardando e osservando io non sono apocalittico non sono mai stato di carattere perché non serve a niente l'idea di andare sotto il letto in posizione fettale a piangere non risolve i grandi problemi si fa prima ad aggiustare le cose e si può aggiustare le cose è un esempio di questo e finiamo è proprio questa roba qua io mi sono chiesto per anni è ovvio che il problema della polarizzazione lo risolverà lo psicologo e quell'altra lo risolverà lo sociologo e l'altra ci vuole l'avvocato e il politico e questa gente qua in buona fede parla lingue diverse e il politico finirà per fare delle leggi che riguardano terminator e quelle cose che non sono mai esistite perché non può capire che io abbiamo creato macchine molto diverse bisogna giustamente spiegargli le cose in un modo chiaro e mi sono chiesto per parecchio tempo ma perché non c'è un modo di trovare un linguaggio semplice unificato chiaro per raccontare tutti i fatti di queste discipline in modo semplice e lì la cosa di fare da soli è meglio che non fare niente questa è una parte del mio genoma significativa che è friulana non tutto ma molto friulano direbbe se non c'è invece che lamentassimo lo faccio io e sto libro qua adesso c'è se vi interessa è là dentro c'è scritto in italiano normale cosa abbiamo combinato e come se ne esce ecco o come potrebbe non posso presumere di come se ne esce cosa dobbiamo stare attenti e come cerchiamo di uscirne ecco questa è l'idea del libro molte grazie a Nello Cristianini che immagino che immagino possa essere disponibile anche per un firma copie visto che lo abbiamo qui e le copie sono al di fuori di questo magnifico teatro della fondazione San Carlo Collegio San Carlo per il quale ringraziamo per l'ospitalità all'interno dello Smart Life Festival molte grazie a tutti quanti grazie a tutti